Ciao ragazzi, un saluto da Artphilo KOTO 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 È arrivato ancora Champions, Champions matematica A meno che non vinci la roba lì Ma cosa sto a pensare Queste cose qua KOTO, siamo in Champions siamo E dai, finalmente Dopo 3 miliardi di anni Dopo che Cioè, in Champions non andiamo dal 2003 2014 No, perché nel 2014 I preliminari abbiamo fatto Champions matematica Cioè, tal 2000 No, tal 2000 Non andiamo in Champions Noi, poco due Sono 20 anni che non andiamo in Champions Finalmente Champions League Così Lazio-Cagliari 2 a 1 Abbiamo vinto, eh Abbiamo fatto a vincere oggi Grande partita Grande partita dei miei giocatori Ragazzi Che per la partita ha fatto la Lazio Grande ha parato di tutto Grande ha parato E... Godo Prima azione del Cagliari Punizione Cioè, Pedro Segna Ha fatto un gol Della Madonna Annunzato perché è di seconda E Godo Ha goduto l'ora in un momento asturro Poi Mattiello Che la passa a Simone Simone Con il sinistro Tiro Rimpalato Tadus Felipe Un culo Della Madonna E' segnato Io la stavo dicendo Già Prendevo pure questa qua Perché anche se la Lazio Stava giocando benissimo Ha preso Cagliari Ha preso tutto Ha preso Cagliari Secondo tempo Il Cagliari non scende più in campo Il Cagliari stava dormendo in campo Nel secondo tempo La Lazio 49esimo 50esimo Mi dico che ci ha fatto un gol Pazzesco ragazzi Col sinistro Col destro Una bomba sotto l'incrocio Del Volo Cagliari che non può prendere Finito si prendeva pure quella là 1-1 Circa minuti dopo 54esimo 2-1 Sobredici L'Immobile Che fa 31 gol E solo L'Immobile Grande gol Di Di Immobile Inbucata di Correa Che la passa a Immobile Immobile là E così dare le rete Fa bene anche Fa molto bene Poi la partita Si mette E' bene per la Lazio Perché Va Cagli fa altre 2-3 mila parate Fa Non lasciamo chiuderla Ma Va bene così Va bene Basta Abbiamo presi 3 punti Sinceramente Quindi se è una partita Importata Che devi vincere Per andare in Champions Matematicamente L'hai fatto Ora sei in Champions Goditela Questa Champions Perché sono contentissimo Io Sono davvero contentissimo Sono Perché la Champions È viva Volevo andarci Io Per vedere le partite E quindi lo sto godendo Come un porco Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Io sto godendo Intanto noi ci becchiamo Al prossimo video Con le dark pagelle Che farò Verso l'una Le due Perché Verso le 5 No ragazzi Perché io parto Al mare Quindi Non posso Niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Goto goto I Grazie.